Avanti! Permesso? Allora, tu a posto? Ti senti pronto? Hai bisogno ancora di una mezz'oretta per una prova di memoria? No, 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 a posto. La memoria è ok. Proviamola subito, così dopo, quando vuoi. Grande! Francesco Capo! Senti, il vestito che devi dire? Sei perfetto! Senti, René, io preferisco dirlo alle persone con cui lavoro, anche per correttezza, insomma. Io, la sera, mi faccio. Cioè, ti fai... Mi faccio, mi faccio uso d'eroina, per dirla burocraticamente. Ma solo la sera, mai sul lavoro. No, te lo dico perché magari la sera mi chiami e io... è facile che non ti rispondi. No, ma figurati! Anche io la sera, spesso, non rispondo al telefono. Beh, io vado. Vengo con te. Come? Come no? È certo, no. Allora... 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 Allora...